Musica E eccoci qui ragazzi con il nostro nuovo episodio Siamo finendo il ponte dopo una lotta con un ragno Con un ragno Una lotta con due ragni e un creeper No è un creeper, è uno scheletro Ragazzi questo posto è disolato, cioè non riusciamo a trovare la terza isola C'è una cosa impossibile, cioè non riusciamo proprio a trovarla, niente Abbiamo cercato anche con, se sto facendo il video, con la creativa volando, ma non si trova Niente Ragazzi se conoscete la map, se l'avete già fatto, avete sentito qualcosa, non so Cioè scriveteci sui commenti almeno Intanto qui cala la notte, io ho paura perché l'isola sta incominciando ad essere grande Poi il ponte, il ponte è abbastanza lungo del buio, avevo paura dei mostri, infatti sono zombie La, vado a murare Mura un po' con la, eh bravo Creeper, 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 creeperino, creeperino porca putta Perché è brutto infatti No ma a me è strano Eccolo Fico Che volo che ha fatto il creeper A me era bianco e teneva 50 occhi Il creeper bianco Perfetto Andiamo bene avanti E ragazzi vi stavo dicendo Se appunto conoscete un po', c'è questa map, voi l'avete sentito a parlare, che non sono vostro amico, non lo so Dateci un consiglio, o precitate le coordinate, non so dire La neve Ecco Nooo, dall'altra parte tengo uno stigiano Mi senti? Uè Sì ti sento, se rispondo tardi non è che lagga Ma se, se il microfono perché è staccato Intanto là ci sono Un creeper, uno scheletro, due zombie E un enderman, credo No, sì, no Aspetta Mi giro dall'altro lato No, stavo cal... È un creeper pure Un creeper dietro a tutti, sta Ma nazi... ah, eccolo qua Vabbè, poso un po' di cose nella cesta Oh, aspetta, poso... Oh, stanno le torce, porca miseria Sta tentando di suicidarsi Incominci a mettere... eh, bravo, hai messo la torce Quando si faccia... uno... Cazzo... Vedi che rischi di cadere giù Eh, lo so, me ne sono accorto dopo LOL Vabbè, ma tanto se cadevo... c'è dalla corrente di salivo Tante... una cosa... una fase E se me la faccio a mano la mappa... In che senso? Ah, eh... no Non lo so Prova, provaci No, no, no Falla tu Non la so fare Oh, oh, oh Il cronometro segna quattro minuti Posso nella cesta o qualcosa per i ponti Hai capito come si fa? Ah, mappa No, lol Tutta la carta attorno Ecco Ah? Ecco Ah, è il libro in mezzo Ah, la bussola in mezzo Ah, la bussola Ah, è vero, lol Non è sembra un'altra Di carta Aspetta Te la dà a te Ti 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 Facciamo una trappola per noi Mi sembra che c'è un enderman Eh, infatti, l'ho visto pure il Campbellman Che cavolo ho detto Il Campbellman Cioè Eh, ma guarda Cioè, crasha con la mappa Impossibile, te l'ho detto Scheletro sopra di me Scheletro sopra di me Nooo Hai capito Hai capito che è successo? Che culo, lol No, vabbè, ma crasha con la mappa Non so perché Ma se Ma Il creeper Il creeper con la faccina Ua, sai che pezzo Sai che pezzo Se Ua, il creeper sta buttando Ua, no, olè Il creeper si è buttato giù Il creeper si è buttato giù Lo zombie Come cazzo è salito là sopra? Non si sa Un altro creeper Lui ha la spada Non si sa come Ma la spada Vabbè Che ti volevo dire? Che cavolo ti volevo dire? Mi sono dimenticato Porco Dio Che c'è lì dietro? Ecco il creeper Il creeper ora si è buttato giù C'è un creeper Eh, olè Si è buttato giù Si è buttato giù No, sta ancora qua No, ma hai capito che è successo? Se ti metti qua Quando cade un mob Quelli cadono giù Poi dopo, non so Ritorno Un'altra volta L'altra volta Un'altra volta L'altra volta Che cavolo dico? Cioè Volano E ritorno un'altra volta là Non so come Se ti metti qua Quando cade un mob Un creeper Specialmente Si mette là Non lo so Vedo un ragno rosso Eh No, vabbè Gli occhi sono rossi LOL Che cavolo fa Quello? No, no Nazi sarà La nostra robina Si è buttata giù L'azzurro Oh Voglio vedere Uno spike jockey Mi pare che così si dice Sai cos'è? Che sarebbe Sai cos'è? Sarebbe lo scheletro Seduto sul ragno E combattono insieme Qua è bellissimo È rarissimo da trovare Spike No, aspetta Spike di giochi Mi pare Non mi ricordo Perché si vuole Suicidare Tanto fra poco Diventa giorno E muoiono Quella la chiameremo l'isola Maledetta Ecco A quantia stiamo? Otto minuti Vabbè Ma quando Ma quando diventa giorno Metteremo le torce Ma è furbo lui Mettiti come si mette lui Dall'altro lato Così ti Ti guardano e cadono Mi stava buttando giù Di Leo Quanti ce ne sono? Ecco Lui È morto Red È morto Tanti mi piace Per la morte di Red Ritorna dentro Che mi te la trasporto da me Ti ti pizzo Sono già qua Ma Che mi ti pizzo a fare Che stavo dietro di te Non fa niente Ecco Oh la nuova È caduto un'altra volta No tu mi hai spinto Tu mi hai spinto Ma tu sei caduto Io stavo proprio No tu mi hai spinto Stavamo saltando No ecco Ma voglio là sopra Non so perché C'è spavano Nel niente Ecco Tu mi hai spinto Quando stavamo saltando Mi hai spinto tu Bastardo A me mi hanno colpito Eh Tu sei saltato Per andartene Mi hai spinto a me Il ragno marrone Posso andare di là Che dici Aspetta Sì tanto sta solo il ragno Hola amigos Allora non voglio cadere Uè bello Come stai stamattina Come puzzi Che ti sei mangiato Sto a piedi stavano Sto a piedi stavano Sto a piedi stavano E' ragno velenoso No 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 Non è ragno velenoso E' crepato Ha voluto scidare l'ira di Phelps Mi rubo l'ossidiano Datemi due torce Oh Sono passati dieci minuti Stoppiamo Facciamo un altro po' 15 Facciamo Ok Oh Le torce non ci sono Fate delle tu C'è Prenditeli tu Me l'ha data di lei Due me l'ha data Mettile sul ponte Ma che sul ponte Le metto qua dove si spawnano Ma me ne prendo altri Ma c'ha miseria di lei Amorita Che ho fatto No Non è stato lui Non è vero Che ce ne facciamo le cactus Ecco Ce lo mastichiamo Tuca 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 Ma non è che un survival Solo con queste due isole Credo proprio di sì E il mangiare come facciamo? Gli alberi Oh no E l'ossidiano? No ma Dobbiamo fare il portale con l'ossidiano Eh penso di sì Con i funghi Così facciamo le ciotole Di funghi E se facciamo il nether Mo? No Non abbiamo l'accendino Ah è vero Eh l'accendino come cazzo lo facciamo? Come? Ecco No ma sugli screen stavano pure le altre isole L'isola è la isola L'isola L'isola dei funghi Stavano un sacco di cose Uè è mezzogiorno È mezzogiorno No Sono le Eh? Sono È mezzogiorno Vabbè vaffanculo Devo riempire Il fondo di dito forse No vabbè Se ne metti una tipo Con lo stacco di Cinque o sei blocchi Già va bene No ne metto una ogni due blocchi Non ne metto una ogni due blocchi Quanto stiamo? Quattordici Un altro minuto Eh saluti Va bene Ciao a tutti ragazzi Ci vediamo nella prossima parte Di questo episodio Che chiamerò Ragazzi Come vi ho detto prima Se conoscete un po' la map Se conoscete le isole Se l'avete vista Almeno Dateci uno screen Un video di risposta Le coordinate Non lo Cioè non lo sappiamo Se conoscete l'isola Diteci qualcosa Aiutateci Dateci qualche consiglio Su sopravvivere Altrimenti Grazie a te stesso Vabbè ragazzi Da oggi Dai mooncrafter Si è il tipicone Un albacello Oggi Oggi Demoncrafter è tutto Red Felps e Red Vi saluto Vabbè Però Per ora è tutto Ci vediamo tra poco Per voi sarà tipo Un giorno Una settimana Per noi sarà Un minuto Va bene Al prossimo episodio Ciao 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 ciao